Tra mille festival estivi che le marche ospitano, quello di Pergola è dedicato al cinema di animazione poetico, un genere di nicchia ma solo in apparenza. Il festival infatti ha riscosso un grandissimo successo di pubblico. Vediamo. Quattro giorni di festival dedicato al cinema di animazione poetico. Artisti che arrivano da tutto il mondo, giuria prestigiosa con nomi del calibro di Ascanio Celestini, Umberto Piersanti e Aleksandre Petrov. Tutto questo accade a Pergola con il festival Animavì, diretto da Simone Massi, uno dei più importanti registi di animazione a livello internazionale. Il primo premio, cioè il bronzo dorato, fedele riproduzione dei bronzi di Pergola, è andato ad Anna Shepilova, regista russa specializzata nei film di animazione poetica. Menzioni speciali a diversi altri registi, due italiani, tra questi Giacomo Passanzini per Sarajevo e Francesco Ruggeri per le matrici dell'Io. Una soddisfazione per Pergola sia per il pubblico che ha accompagnato le quattro serate, sempre numeroso e attento, sia perché la cittadina è diventata per un breve periodo un punto di riferimento per il complesso mondo del cinema di animazione. Appena chiusa la prima edizione del festival Animavì si ragiona già sulla seconda e si considera il marchio come un patrimonio cittadino da conservare e difendere, un seme che germoglierà ancora in futuro.